Plastica liquida o in microparticelle in quasi un terzo dei detergenti per superfici, abiti o stoviglie. Un nemico invisibile e ad oggi del tutto legale che preoccupa però proprio per chi è ancora sconosciuto. Stiamo creando un nuovo inquinamento utilizzando delle sostanze i cui effetti e i cui impatti sull'ambiente sono ad oggi ignoti. All'origine della denuncia di Greenpeace un suo rapporto intitolato Plastica liquida l'ultimo trucco per avvelenare il nostro mare. Su 1819 prodotti controllati sul web il 23% conteneva almeno un ingrediente in plastica. I prodotti in cui queste sostanze erano più presenti erano quelli per il bucato, il 30% circa di quelli presi in esame e tra questi le aziende nei cui prodotti questi erano ingredienti molto frequenti erano Procter & Gamble, Colgater e Alchimica. In base alle ricerche di Greenpeace queste sostanze vengono soprattutto utilizzate per aumentare la viscosità e l'opacità del detergente o per ritardarne la diffusione dell'aroma. La ristrettezza delle categorie di prodotti presi in esame non esclude tuttavia che quanto messo in luce sia solo la punta di un iceberg. È verosimile che queste tipologie di materiali siano presenti anche in altre categorie merceologiche, probabilmente i cosmetici, probabilmente le creme solari, insomma sono sostanze di cui l'industria fa largo uso. In ossequio al principio di precauzione Greenpeace chiede il mando di queste sostanze, non essendo specificatamente disciplinato il loro utilizzo è però al momento autorizzato. Su mandato della Commissione europea, l'ECA, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, ha preparato una bozza di restrizione ma che riguarderà soltanto le particelle in forma solida. Le aziende in qualche modo sono riuscite, prima che venga approvata questa nuova restrizione, già ad aggirarla ricorrendo alla plastica liquida o semisolida.